Credo che il nesso tra spazio e geopolitica sia evidente da tutti i punti di vista. La possibilità di posizionare un satellite in orbita, la possibilità di poter utilizzare questo satellite per acquisire dati, per poterli anche elaborare, evidentemente conferisce una posizione di vantaggio per qualsiasi paese che voglia utilizzare queste tecnologie. Ed è qualcosa che si applica ovviamente innanzitutto alle applicazioni civili, quindi alla dimensione dell'industria civile, quella per usi pacifici, ma per sua natura intrinseca anche una matrice duale, quindi può essere utilizzata anche per altri scopi. Quindi l'impatto geopolitico è direi particolarmente evidente e ne abbiamo discusso anche durante il convegno di questa mattina.